Signore e signori, per voi questa sera, c'è Ricca! Ricchiedi la base in alta definizione e senza interruzioni al numero a destra nel video. Quando già, credevo di esserci riuscito, sono caduto. Trova il tuo genere preferito cliccando su playlist. Puoi richiedere qualsiasi tipo di arrangiamento. Io spero tanto che ti sia sincera, perché non vorrei mai che questa nostra storia avverà. Ricorda che la qualità delle basi che ti invierò è molto superiore a questa demo. Clicca sulla parola altro sotto al titolo. Per ascoltare le altre versioni di questo brano. Ricchiedi la base in alta definizione e senza interruzioni al numero a destra nel video. Trova il tuo genere preferito cliccando su playlist. Puoi richiedere qualsiasi tipo di arrangiamento. Disperazione nasce da... Disperazione nasce da... Una disperazione nasce da... Disperazione nasce da... Dieci ragazze per me Posso mazzare Dieci ragazze per me Clicca sulla parola altro sotto al titolo per ascoltare le altre versioni di questo brano. Che non vivo più senza te Quanto? Quello proprio parlo per te Forse lo sai Una Richiedi la base in alta definizione e senza interruzioni al numero a destra nel video. Mi ridori bene Per l'amore sei Forse un po' di più Mi ridori bene Non sei dove mai Come non sei più Una Trova il tuo genere preferito cliccando su playlist Trova il tuo genere preferito cliccando su playlist Per ora sei In tutti gli sogni Come ti vorrei Puoi richiedere qualsiasi tipo di arrangiamento Richiedi la base in alta definizione e senza interruzioni al numero a destra nel video E' l'arma di me celebra